L'ILT ha dimostrato negli anni, nei decenni, nel lungo periodo di essere una realtà viva che si sa evolvere, che si sa diffondere e sa creare valore per il paese, valore per le persone, nell'aiutarle e nel prevenire e nel assisterle nei momenti di particolare sofferenza che possono colpirle. Noi oggi abbiamo celebrato la consegna di un furgoncino che servirà ai volontari della L'ILT per accompagnare le persone per avere le cure di cui hanno bisogno. Quindi con la simbolica consegna delle chiavi abbiamo avuto il piacere simbolico di arrivare a tutte le persone che beneficeranno del servizio che i volontari svolgeranno a favore appunto delle persone del territorio che poi è il nostro territorio di elezione e poter pensare che un po' del mio lavoro, del mio tempo, della mia energia sia stato utile per fare qualcosa che trascende quelli che forse sono i compiti un po' istituzionali del ruolo è una cosa che personalmente mi fa star meglio. L'ILT per me è una delle cose belle del nostro paese.